Ercole! Che c'è? Allora, pare che questa volta ci siamo, eh? Per cosa? Allora, c'è una certa... Aspetta, fammi controllare... Ecco, una certa draguessa che vorrebbe uscire contento. Sei contento? Oh, no! Ma come? Non era quello che desideravi? Sì, però... Io ho paura. Ma paura di cosa, scusa? Non so ne cosa usare. Non so ne cosa dire. Insomma, un vero disastro. Ercole, ma guarda che è semplicissimo. Basta seguire alcune piccole regole. A proposito, si accettano suggerimenti. Allora, punto primo. Sì, te stesso. Andiamo bene. Io neanche ne ti faccio. Ma come Ercole, un drago bello, intelligente come te. Lo dici solo perché sei mia amica. Io lo dico perché lo penso davvero. E poi lo pensano anche gli altri. Non è così? Vedi? Ok. Poi mi raccomando, sorridi sempre. Così? Ahahahah. No, 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 no. Magari un sorriso un po' più naturale. Così? Ecco, così già va meglio. Ok. Poi magari potresti dedicare una delle tue canzoni. Che ne pensi? Ti trovo? Certo. Un amore così grande, un amore così. Tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio dretto. La d'acqua tua si accende, si accende l'altra età. Tanto caldo dentro. Tanto caldo dentro. Bravo Ercole! Grazie! Allora facciamo così. Magari ci puoi sapere come è andato, ok? Ok. Intanto salutiamo. Ciao ciao! Ciao ciao e alla prossima!